Maxi operazione antidroga all'alba di oggi a Palermo, gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito otto ordinanze di custodia cautelare personale, di cui cinque in carcere e tre agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Palermo Maria Pino su richiesta del Pubblico Ministero Claudio De Lazzaro, nei confronti di soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale dedita a un'intensa attività di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana sulla piazza palermitana. L'operazione denominata Restart ha permesso di smantellare l'organizzazione di spaccio operante nel quartiere palermitano di Belmonte Chiavelli, che garantiva una disponibilità di droghe pressoché permanente e continua attraverso la presenza di pusher nell'arco delle 24 ore, alla stregua di una qualsiasi attività commerciale non stop. L'organizzazione, sfruttando la conformazione morfologica del quartiere, prevalentemente composto da tortuosi e lunghi vicoli, era riuscita a rilevare le eventuali presenze strane, soprattutto in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Le indagini, avviate dal 2011, hanno consentito di eludere gli accorgimenti adottati dall'organizzazione criminale. Attraverso mirati servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, supportati dall'utilizzo di sofisticate tecnologie, sono state ricostruite le modalità dello spaccio e i ruoli ricoperti dai singoli componenti dell'organizzazione nell'attività criminale. Le indagini hanno fatto emergere l'accuratezza con cui veniva gestita l'attività di vendita di stupefacenti, che faceva perno sulla predisposizione di veri e propri turni, che assicuravano alla cerchia di clienti dalla piazza di spaccio la costante possibilità di approvvigionarsi di sostanze illecite. Gli investigatori hanno ricostruito oltre mille episodi di cessione, sono stati identificati 107 consumatori. L'operazione ha portato anche al sequestro di oltre 5 chili di marijuana, 100 grammi di cocaina e 266 piante di marijuana, con l'arresto in flagranza di reato di 5 irresponsabili, tra quali alcuni minorenni. I manette sono finiti Francesco Streva, Ferdinando Bilitteri, Umberto Bilitteri, Filippo Camuca, Antonino D'Alessandro, Alessandro Lo Giudice, Valerio Lo Iacono e Alessandro Gendusa.